Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Nino con i due, bene Andiamo a reclutare questo tipo Ehi, senti un po', se mi hai parlato è perché vuoi reclutarmi, no? Sono pronto a partire quando vuoi, sarà interessante E poi, grazie per aver dato una mano a Eudora dopo quella volta Ho cominciato a pensarci ed ecco Penso di doverla dimenticare Non è che non mi fossi reso conto dei suoi sentimenti Tuttavia io ho un sogno che desidero realizzare E non me la sento di coinvolgerla Ciò che desidero è lasciare Talasside e vedere mari lontani Il tuo regno sarà la base di cui vedrà vedere gli oceani del mondo Non intendo passare del tempo a divertirmi ovviamente Sono pronto a unirmi al tuo esercito, qualora fosse necessario Eh già, uso uno scudo e sono specializzato nella difesa Sarò utile in ogni caso di battaglia difensive e assedi Ok, un altro che si entra Aumenta l'efficacia del mercato del pesce Oh, mercato del pesce finalmente Bene, sarà un piacere, la mia forza sarà il tuo Sarà tua nel momento del bisogno Se inconti Eudora, portale i miei saluti Bene, allora vado È lì, è lì, guarda È lì, gira la faccia E dici ciao Eh no, non c'è niente da fare Vabbè Eudora, non piangere Permetto tu la distanza fra me e lui si è accorciata tanto Vi ringrazio davvero Troverò la felicità Ne sono certo Certa Eh, mi dispiace tanto I tuoi occhi però sono belli Perché li nascondi così? Non si vede un cazzo, non si vede Vabbè Allora, vediamo cosa fare Perché qui non mi ricordo già più un cazzo Ah, devo selezionare questo, scusate Eh, vai Vai Questo no Questa Mamma mia che agente Suo incredibile carisma aumenta l'efficacia della caserma Con quella faccia Oh, Darnot dell'amicizia Allora, vediamo un po' dove devo andare Lo so già, cioè lo presumo No, mi sono sbagliato Non mi sono da un'altra parte Vabbè Ok Ok Eccoci qua Allora Vediamo un po' Di qua, grazie Di sopra? Vuoi che vada di sopra? Vuoi che prenda l'assessore? Vuoi che non capi un cazzo? Dove devo andare? Vediamo un po' Oh, ma c'è un'altra quest Oh, c'è un'altra quest Può esserci un'altra quest Sarà quelli da reclutare Dai, è possibile che ci sia una quest Se no Scusate, ho il singhiotto Oggi è una cosa incredibile Allora Sì, sì, sarà lei Dai, sì, sì È una reclutata Ah, salve Lei deve essere Evan Ho sentito molto parlare di lei Io mi occupo di ricerca ambientale Mi chiamo Nicole Durante la mia ricerca ambientale Ho sviluppato un forte interesse Per lo studio di quegli spiriti Che rappresentano l'origine della vita Sono sicura che se riuscissi a scoprire di più su questi spiriti Troverei il modo di dare vita alla natura di Sequonia Ho sentito che il tuo paese accoglie persone di ogni luogo Se possibile potrei condurre le mie ricerche nel tuo regno Dici davvero? La ringrazio Sarà un onore per me Perfetto Oh, la faccia Aumento l'efficacia dell'atelier dei Cioffi Sì, ho dato tutti i Santi Mi mancava proprio una Non si preoccupi La ricerca qui a Sequonia procederà senza problemi Dopotutto ci sono tanti giovani di talento Ho cacciato una sputata al mondo Che adesso vedo tutti i colori Scusate Nel suo regno mi aspettavo sicuramente molte nuove scoperte La solita idea di emozione Mi emoziona tantissimo Aumento il livello Oh, che bella coscia Sono tanto contento Nicole Sono così contento di essermi trasferita a Estroni Qui ci sono tanti spiriti con cui posso integrare E interagire Mentre a Sequonia non c'è Non c'è Nera nessuno Ogni giorno faccio tante nuove esperienze È così emozionante Vediamo un po' questo Paul Eh eh Che ne pensate? Questa foto di Tadoptozo È notevole, è vero? È la mia preferita Se ne avete una migliore Passatemela subito Sì, così Proprio arrogante Va bene Andiamo a scusare Proseguiamo pure Da quel tipo topo Era una donna Va bene Non mi importa Vai giù Sbrigate Quindi andiamo Ah, stavo dicendo Dove cazzo devo andare? Porche miserica E qui non c'è Qui dice che devo andare all'ascensore Ho capito L'ascensore dove devo andare? Devo andare all'ultimo piano Principalo Non ho ben capito Non ho ben capito, scusate Sono all'incoglionito Però Io andrei un attimo Al parco della cupola Vediamo se devo salire Tanto comunque Non c'è l'ascensore Che porta lì Quindi Allora Vediamo un po' Sono qua E devo andare All'ascensore Ancora Devo scendere di un piano Quindi devo andare solo A scendere di un piano Strano Ok Andiamo di un piano Oh, ma c'è qualcosa Un'altra di roma Dopo lo leggiamo Adesso andiamo giù Ok Quindi primo piano Va bene Sao forse Forse mi sbaglio Ormai mi sto perdendo ovunque Ok, sì Da qua Vediamo un po' E infatti si sale Mi sembrava strano Vabbè Andiamo pure Oddio, scusi Sono andato a sbatterle Ok Saliamo E lei No E un'altra E questa Oh, salve Evan Sono in debito con lei Per l'altra volta Siccome mi fido di lei C'è qualcosa di importante Di cui vorrei parlarle Io sono responsabile Di attività di spionaggio Vorrei Trasferirmi nel suo regno Per Stabilire la mia base operativa Come? Niente altro che una spia? Che cosa dice Evan? Se qua ne ha il suo regno Hanno stretto un accordo Non è così Per questo Condivideremo Le informazioni Anche con voi Ovviamente però Anche Una mano A proteggere la popolazione Me la cavo piuttosto bene Con la spada Non c'è niente di male Giusto? Bene Allora Consideriamo Approvata La richiesta di trasferimento Ah è stato facile Dai Ok Bene Dai sono Evan Grazie mille Per la sua fiducia Beh dai Sono contento Abbiamo praticamente Fatto tutto Non c'è nient'altro Che possiamo fare È rimasta Solo alcune Quest Quest Proprio di margine Che è questa qui Delle porte oniriche E questa qua Che devo fare Questa crostata E questa qui Che è del DRC Praticamente Ne è rimasta una Fattibile Le altre Ci vuole tempo Quindi dai Sono contento Non C'è niente che io possa Dire Andiamo al castello Mettiamo posto Il tutto E Andiamo con la quest principale Vado prima Ah dunque Mettiamo prima posto Facciamo le cose per il verso Vediamo un po' di soldi Sì sì È stato un piacere Eh Ovviamente I materiali sono pieni Finché non riesco a aumentare Guardate Non c'è verso Di avere il proprio trovo Però è strano Perché io Ce l'ho In due posti Addirittura Ma Non ho tempo Di metterlo da parte Perché È troppo altra roba Dove togliere tutto quanto Eh Tutti gli altri E Dedicarmi a quello Ma perché Non so le percentuali Purtroppo non le dice Vabbè Andiamo a mettere I talenti Eh Vediamo se qualcuno Deve livellare Sembrerebbe di no Invece sì Ok Ci stemmiamo tutti E non ci pensiamo più Dai Questo Ah il mercato del pesce Sì c'è un altro Il mercato del pesce Come ci fate pensare Itos Questo Chi è Gida degli esploratori Altri Allora All'io Devo metterlo Nicole E Kate Allora Questa La caserma Siamo subito sulla caserma E siamo a posto Forgia Almeria Caserma Ok Eh Segna talenti Vai Kate Vediamo se posso fare qualche ricerca Io ho fatte tutte Non so che cazzo serve a tenerle Vabbè Meglio così E Adesso Altri Talenti Glenda Laboratorio dimensionalo Laboratorio dimensionalo Laboratorio dimensionalo Mistico E dimensionalo Assegna talenti Glenda Adesso se io faccio ricerche Non posso fare un cazzo Perché mi chiede Un talento con un sede prezioso e celeste Che non ne ho neanche una E basta Quindi non serve a un cazzo Tenerela lì Però va bene Lo stesso Andiamo a talenti di nuovo Vediamo chi è di call Eh Ah la taglia di cioffi Va bene Mi fa piacere Taglia di cioffi Eccola qua Dovrebbe essere questo Quindi Assegna talenti Di call E Adesso abbiamo Due settantasette Che non ci serve un cazzo Perché ci serve Trecento Però Io posso mettere Quello là Che adesso non sta facendo un cazzo E siamo a posto Quindi adesso In teoria Se io facessi così Lui mi ha risposto col cazzo Perché ovviamente Manca un requisito Questo non posso fare Perché vengo anche quello sopra E questo qua Lo posso fare Bene È già qualcosa Oddio Che bello Ok Adesso andiamo pure A Prendere un po' di soldi E andiamo a fare La corsa principale Vediamo che succede Se si dà una mossa Entriamo pure E vediamo Finalmente Di cosa ci vuole parlare Se si Avendo Soprita 10 episodi Però si Mi è giunta Notizia Di una situazione Complicata Volete che Raduni gli altri Per parlarne Si A un certo punto Parlerai Bene Ecco Quanto Da riferirvi Stiamo ricevendo Una lunga serie Di rapporti Piuttosto problematici Rapporti Che parlano Della scomparsa Di risorse Necessarie All'amministrazione Del regno E di Avvistamenti Di loschi Figuri Incappucciati Nella notte Questi sono Solo Alcuni esempi Stanno arrivando Davvero Tante lamentere Sibili Un uomo Incappucciato Sarebbe a dire Che c'è un lado Nel nostro regno Non possiamo Permettere Una cosa simile Si E' proprio Come ha detto Hai detto Davvero C'è una persona Simile Tra di noi E' probabile Che questa figura Incappucciata Ne sappia qualcosa Ma se Il colpevole E' proprio lui In effetti La sicurezza Di questo regno Lascia ancora Desiderare Bene Allora Che ne dite Di una riunione Strategica Dopo cena Per discutere Di come scovare Questo ladro Dovremmo Acchiapparlo Quanto prima Non la pensi anche tu Roland Mi dispiace Ma stasera Preferirei evitare Sembra che io Sia più stanco Di quel che pensassi Se siete di fretta Procedete pure Senza di me Ho capito Roland Tu pensa Riposare Come si deve Si E' proprio Quello che farò Tutti molto Perplessi Lui E' Molto Va bene Vedremo Inutile fare Concetture Perché tanto Lui è uno Strateganato Quindi Può darsi che Ovviamente qualcosa Mi sembra strano Che vada a tradire Così Tutto è possibile Magari È controllato Dallo spirito Violaceo Chi lo sa Infatti c'è stata Una scena Che Quello 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 Bastardone Ammar Inquadrava lui Chissà Vi ringrazio per i materiali Per le informazioni Che ci avete fornito Messer Roland Figurati Non ci è voluto Molto Fammi sapere Se ti serve Altro A questo proposito Messer Roland Che c'è Per quale ragione Una persona Del vostro calibro Collabora Con un paese Minuscolo E pieno Di nemici Come questo Se fossi Dotato Delle vostre Superiori Capacità Laserei subito Questo paese Offrirei I miei servizi A un regno Capace Di offrirvi Di più In effetti Questo paese Potrebbe essere Un po' Troppo piccolo Per me Non ho più ragione Di restare qui Sì In effetti Sarei Interessato A passare Dalla parte Di un regno Che vi faccia Un'offerta Vantaggiosa Molto interessante Messer Roland Vi ringrazio ancora Per il vostro aiuto Vi farò sapere Se ci sarà Ancora Qualche Buona offerta Da proporvi Incredibile Possibile che Si stia Davvero Trattando Con un altro paese Se Se è così Gli la farò Vedere io Cosa vuoi fare Roland Con chi stavi parlando Il sera Il sera A che ti riferisci Non fare finta Non fare finta di tutto Sei un traditore Stai pensando Di abbandonarsi Vero Roland Sei un traditore Esatto Quando Lui ha Visionato Il trasporto Dei materiali Stanno parlando Loro Non parlo E Lui è stupido con i padri Lui è un ragazzino Non può pensare a niente Quell'altro che comunque non è stato agganato Questo Cecilius Non lo so, è difficile È difficile Zora, vabbè, non capisce un cazzo E c'è poco da dire Il bambino è troppo inesperto per capire Ma Cecilius Stanno che non abbia detto proprio niente Per fermarlo Si sia reso così Però di tutto è possibile E soprattutto Roland Non ha combattuto, non si è difeso Non ha fatto niente Appena è andato via Tanto strano Ecco, ho rispettato Gran Consiglio e Consigliere Roland Ma forse ora si dovrebbe parlare di ex Gran Consigliere O sbaglio Dal modo in cui mi parli Sembra che tu mi stessi osservando da parecchio Si può sapere chi sei? Una persona interessata ad assicurarsi Assicurarsi i vostri sevigi Per il proprio paese Poi Voi Possedete una grande Quantità di informazioni Di nostro interesse Oh, quindi sei qui per reclutarmi E quali sarebbero le condizioni della proposta? È naturale volere reclutare una persona adattata del vostro talento Tuttavia, per sapere Per sapere Il resto dovrete parlare con il nostro sovrano Lo sovrano Il re Oh, cazzo Il re di Gatmandu Suomestà Ratholeon Oh Oh, non vedo l'ora di incontrarlo Possibile Oh C'è la possibilità che stia facendo il doppio gioco Nel senso che Gli abbia fatto credere a loro Che ha tradito Perché si sentiva osservato E non poteva Non poteva Non poteva, come dire Far vedere che lo sapeva E quindi Ha ingannato gli amici Per poter far sì che i nemici Pensassero Che fosse effettivamente un traditore Ma non so il perché l'abbia fatto Oppure effettivamente Ha voluto tradire per qualche motivo Che ancora noi non sappiamo O semplicemente È stato Posseduto da quella cosa Quella Magia Violacea Beh, speriamo che lo scopriremo presto È passata la notte Ma non è ancora tornato Non abbiamo neanche Ricevuto notizie da carro Che è andato a cercarlo Oddio Roland Katmandu Uno sguardo molto contento Quello che ho visto Io dirò L'Atoleon Vi basterà Proseguire di qui Per trovare Suo ammestare L'Atoleon Nella Nella sala del trono Bene Il mio compito Finisce qui Spero Che la vostra Sia una conversazione Proficua Andiamo a vedere A sto punto Sono curioso Potrò salvare qui Non lo so Vediamo Sì Posso salvare Dai così almeno Terminiamo qua l'episodio Così non posso L'episodio Con calma Vediamo tutto quello Che è successo E spero di scoprire Il perché Si è successo Perché mi sono Alquanto Stranito L'aspettavo Insomma Sì Liberiamo un po' di cose Così almeno Siamo a posto Facciamo un po' di punti E siamo a posto Quanto ne abbiamo Tanti Ok Così almeno Poi vedrò come fare Quando devo usarli Bene ragazzi Io direi che ci possiamo Fiamare qui Per questo video è tutto Vi vedo come al solito Lascia un like Un commento Se vi piace La serie Fammi sapere cosa ne pensate E per adesso Vi vedo un saluto La sciva Ciao ciao Ciao